Rendere presente in modo capillare sul territorio dello Stato l'autorità del Governo centrale, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza. È il delicato compito dei prefetti d'Italia, ricevuti oggi in Vaticano da Papa Francesco. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha ricordato, tra l'altro, quanto l'incremento dei movimenti migratori, sollecitati soprattutto da violenti conflitti, abbia interessato le competenze prefettizie, comportando l'esigenza di individuare quella corretta applicazione delle norme che garantisca, insieme con la fedeltà al dettato della legge e delle altre disposizioni vigenti, lo scrupoloso rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona umana. Tra i pensieri di Papa Bergoglio, anche la crisi di autorità, che oggi la società sperimenta tanto nel pubblico quanto nel privato e che vede tra le sue cause una carenza di disposizione all'obbedienza, all'ascolto e alla pazienza. L'esercizio dell'autorità ha detto a sempre come obiettivo il conseguimento del bene comune. Quanto più i cittadini percepiranno che i poteri costituiti sono generosamente rivolti a cercare di offrire risposte ai loro bisogni e a tutelare i loro diritti, tanto più saranno disposti ad accoglierne le indicazioni e a disporsi ad uno più rosso e ordinato spirito di collaborazione e di rispetto.